Buon pomeriggio a tutti, ben arrivati al secondo giorno della storia in piazza e ringraziamo la nostra giovane relatrice che ha fatto ovviamente uno sforzo notevole per venire a una toccata a fuga, quindi è arrivata poco fa e deve ripartire subito e ve la presento, è Francesca De Robertis, è docente di greco e latino e dottore di ricerca in filologia classica presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e in storia moderna presso la Scuola Superiore di Studi Storici di San Marino. Ci parla delle ombe sulla fine di Giordano Bruno. Grazie. Buon pomeriggio, la storia di cui vorrei parlarvi oggi è una storia che naturalmente riguarda Giordano Bruno ma è una storia che comincia quasi due secoli e mezzo dopo la morte di Bruno, Giordano Bruno forzo vivo sul rogo la notte tra il 16 e il 17 febbraio del 1600 ma per tutti noi è un mito, una leggenda, il martire del libero pensiero, un eroe. Questa immagine però non è nata subito, soprattutto non è nata dopo la sua morte ma è nata come dicevo prima alla fine del XIX secolo e vorrei partire proprio da queste vicende qui. Già Anna Foa e Massimo Bucciantini hanno raccontato e hanno ben analizzato in due importanti volumi la storia del cosiddetto afferca un po' dei fiori. È una storia che riguarda naturalmente la costruzione della celebre statua che si trova ancora oggi a Roma. È una storia importante dalla quale vorrei partire perché è proprio da questo momento che nasce per la prima volta l'esigenza di rinvenire dei documenti sulla morte del filosofo. Qui vedete una riproduzione della sottoscrizione universitaria internazionale che alcuni studenti dell'università della Sapienza di Roma nel 1876 redassero appunto per raccogliere fondi al fine di costruire, erigere una statua in onore del Nolano. Siamo nel 1876, gli studenti, in particolare gli studenti della facoltà di legge, cercavano in ogni modo di trovare una figura che potesse, come dire, che potesse in qualche modo attirare le attenzioni soprattutto del Vaticano e dell'area clericale. Due studenti, Alfredo Comandini e Adriano Colocci, decisero pertanto di creare un comitato per la costruzione del monumento a Giordano Bruno e con l'intento naturalmente di inviarlo in tutte le università del neonato regno d'Italia, in modo tale da poter raggiungere una cifra sufficiente per la costruzione della statua. In questo documento naturalmente la retorica fa da padrone nel senso che si legge e vengono utilizzati per questo motivo stralci della vita scritta dal più celebre biografo del Nolano, appunto, di Giordano Bruno, che è Domenico Berti. Nel manifesto si legge «Infinite la falange di quei precursori della moderna civiltà, di quegli arditi pionieri della libertà di esame e di pensiero, che il fanatismo religioso immolò. Essi grandeggiano troppo più che noi nella storia dell'idea e del lavoro. E che siamo noi con la nostra mollezza, con la disarmonia tra il pensare ed il fare? Che siamo noi verso questi eroi che salgono filosofando sul ruogo e che hanno in sì in alto pregio il loro pensiero e la loro parola da dar la vita anziché mancare a questa o a quello. E il manifesto prosegue appunto con l'intento di incitare gli animi. Alla società moderna, le giovani generazioni incombe l'obbligo di raccogliere quei nomi sotto la nuova bandiera e proclamarli martiri della civiltà. Mossi da questi sentimenti, i sottoscritti, studenti dell'Università di Roma, si avventurano a promuovere fra la gioventù studiosa una sottoscrizione internazionale per erigere un monumento in Roma, a Giordano Bruno, sulla piazza di Campo dei Fiori, nel luogo stesso dove fu arso vivo il 17 febbraio del 1600. In Roma, proseguono, sempre nel manifesto, nessun monumento accenna finora al sorgine di un'Italia novella. Alle vetuste reliquie della Roma antica, ai templi sontuosi della Roma cattolica, facciamo seguire i simulacri di coloro che hanno preparato la rivoluzione del pensiero, onde è poi scaturita la Roma moderna, la capitale della libera nazione degli italiani. E, diciamo, per rendere ancora più efficace questo manifesto, i giovani studenti dell'Università di Roma decidono di trascrivere una delle più famose frasi, delle più celebri frasi attribuite al Nolano, che è proprio questa qui che leggiamo, maggior timore provocate voi nel pronunciare la sentenza contro di me che non io nel riceverla. Ora, è una frase importante, tutti, tutti gli studiosi di Bruno, tutti gli appassionati delle vicende del Nolano, sanno che Giordano Bruno ha pronunciato questa frase nel momento in cui gli fu letta l'8 febbraio del 1600 la sentenza di condanna. Ma questa frase è molto controversa nella misura in cui si trova nell'unico documento fino a quel momento, quindi fino alla fine del XIX secolo, che fino a quel momento era stato reso pubblico. Un documento piuttosto controverso perché si tratta di una epistola scritta da un umanista, Caspar Schoppe, inviata al suo maestro di diritto ad Althdorf, Conrad Rittershausen, e si tratta di una lettera scritta da un ex luterano appena convertito al cattolicesimo, il quale racconta del rogo di Giordano Bruno al suo maestro in Germania con l'intento di rassicurare l'area protestante del fatto che a Roma venissero bruciati eretici e non luterani o calvinisti o protestanti in generale. Ma procederei con ordine. Dopo la sottoscrizione del primo manifesto, che è questo qui del 1876, in realtà il Comitato per la costruzione della Stato in onore di Giordano Bruno non riuscì nell'impresa. Infatti ci fu una pallidissima partecipazione non solo degli studenti ma anche e soprattutto dell'amministrazione capitolina. Per questo motivo qualche anno dopo ci fu un cambio al vertice. A capo del Comitato si innestò appunto un altro giovane studente di legge e della sapienza, Giuseppe Vernazzi, il quale decise molto saggiamente di coinvolgere Antonio Labriola. e grazie naturalmente al coinvolgimento di Labriola fu possibile proseguire nell'impresa. Nel 1885 quindi viene redatto un nuovo manifesto, un manifesto molto più pacato rispetto al precedente, un manifesto che diventa importante soprattutto per il fatto che tra i sottoscrittori c'è non solo Labriola ma le più importanti menti intellettuali e anche politiche dell'epoca. Tra i sottoscrittori infatti ci sarà Victor Hugo, Ibsen, ma poi ci sarà anche Giosuè Carducci, ci sarà Sidney Sonnino, ci sarà Giustino Fortunato, Francesco Crispi, Zanardelli. Insomma, grazie alla regia di Antonio Labriola i sottocomitati e il comitato principale riescono a raccogliere fondi sufficienti per ingaggiare il celebre Ettore Ferrari e poter naturalmente inaugurare e soprattutto far costruire la statua in Campo dei Fiori. Vorrei leggervi qualche parola appunto scritta da Antonio Labriola per spiegare proprio il senso della costruzione di una statua in onore di un filosofo che però fino a questo momento, quindi fino alla fine del XIX secolo, è ancora poco conosciuto, non è ancora trattato come un mito, come un eroe, come una leggenda. Labriola scrive Eleveremo perciò il monumento a Giordano Bruno in Campo dei Fiori in atto di espiazione delle colpe dei nostri avi la cui morale ignavia fu cagione del nostro ritardato progresso politico perché serva come da simbolo alle moltitudini della libertà di coscienza. Se è vero che non di solo pane vive l'uomo nella crescente prosperità materiale del nostro paese facciamo pure di non dimenticare le idee per le quali siamo risorti e senza delle quali non possiamo continuare l'opera civile di uno Stato libero e progressivo. Quindi dopo la sottoscrizione del manifesto del 1885 e soprattutto dopo la vittoria dell'ala liberale nelle elezioni romane del 1888 finalmente viene concessa l'area di Campo dei Fiori per la costruzione della statua e il 9 giugno, domenica 9 giugno 1889, domenica di Pentecoste si inaugura il monumento. Questa che vedete alle mie spalle è la prima pagina del messaggero del lunedì 10 giugno, sempre dello stesso anno, 1889 e il messaggero naturalmente dedica non soltanto la prima pagina ma anche diverse pagine interne al racconto della fiumana di persone giunte da quasi ogni parte d'Italia appunto per inaugurare questa statua che si trova oggi naturalmente al centro di Campo dei Fiori. In realtà il punto preciso dove fu allestita la pira per il filosofo era più verso via dei Giubbonari quindi non era proprio al centro. I giornali cattolici dell'epoca parlano di all'incirca 5.000 persone giunte da tutta Italia per l'inaugurazione del monumento in realtà il messaggero addirittura parlerà di 30.000 persone quindi una cifra molto diversa. Ma l'affaire Campo dei Fiori cosa c'entra con le ombre sulla morte di Giordano Bruno? In realtà l'esigenza di rinvenire nuovi documenti relativi alla morte del filosofo nasce proprio in questa temperie non solo perché fino a quel momento l'unico documento conosciuto era appunto l'epistola di un umanista ma anche perché nel 1885 un professore di filosofia di Versailles qui vedete il frontespizio di un libro bizzarro pubblicato appunto a Parigi la Legende Tragique di Giordano Bruno espone per la prima volta una teoria alquanto stravagante e cioè Giordano Bruno non fu bruciato il 17 febbraio del 1600 ma fu bruciato solo in effigie quindi fu bruciato una sua raffigurazione cosa piuttosto comune appunto a cavallo tra il XVI e il XVII secolo e a detta di Dedui finì, trascorse gli ultimi anni della sua vita in un convento domenicano a Roma ecco una tesi di tal genere naturalmente si basava solo ed esclusivamente sulla dimostrazione della non autenticità dell'unico documento fino a quel momento conosciuto vale a dire l'epistola di Scioppius sul rogo del Nolano e naturalmente diciamo nella temperia nel torno di tempo che vi ho raccontato serviva era più che mai urgente l'esigenza di rinvenire nuovi documenti ora questo è un dipinto appunto di Scioppius il quale come vi ho detto proveniva da una famiglia luterana solo nel 1598 si era convertito al cattolicesimo e una volta giunto a Roma Scioppius era un filologo era un umanista si è occupato anche dell'edizione di alcune commedie plautine decide di frequentare i più importanti circoli letterari della città e quindi stringe rapporti molto forti ad esempio con Giusto Lipsio ma a Roma soprattutto inizia a frequentare il cardinale Roberto Bellarmino Cinzio Aldobrandini e anche il cardinale Madruzzi o Madruzzo probabilmente proprio grazie alla frequentazione di questi salotti decide di trascorrere appunto i primi anni la fine diciamo del del 1500 i primi anni del 1600 svolgendo una serrata difesa e propaganda della controriforma e in questa temperie naturalmente ben si capisce il perché il 17 febbraio del 1600 abbia deciso di scrivere al suo maestro della morte di un filosofo alle mie spalle c'è la riproduzione di diciamo della dell'epistola di cui vi ho parlato si tratta però di una copia quindi non è l'originale non la possediamo non possediamo appunto l'autografo di questo di questo scritto e questa epistola è conservata in Polonia in un come dire manoscritto composito che racchiude tutta una serie di epistole inviate da eruditi in Germania la storia di questo manoscritto è piuttosto complessa non sappiamo il perché naturalmente si sia conservata una copia non riusciamo diciamo nella tradizione testuale di questa lettera è molto difficile risalire il perché si trovi proprio a Breslau quello che possiamo dire è che non deve sorprendere il fatto che un ex luterano convertito al cattolicesimo sentisse l'esigenza di giustificare in qualche modo l'uccisione di un di un eretico ed è questo il vero motivo per cui sciopius scrive al suo maestro ora io qui vi ho trascritto qualche stralcio preso dall'epistola che naturalmente è in latino e la lettera copre all'incirca cinque pagine manoscritte è una lettera molto lunga ed è una lettera che non contiene soltanto particolari relativi alla morte del filosofo nolano ma tutta una serie di questioni letterali rimaste in sospeso appunto tra sciopius e il suo maestro ritter sucius per cui naturalmente il carteggio tra i due era un carteggio che continuava nel tempo nonostante la conversione dell'allievo in questa lettera si dice ad un certo punto in vero dice sciopius a scriverti adesso mi spinge il fatto che proprio oggi giordano Bruno è stato pubblicamente bruciato vivo e cosciente in campo dei fiori davanti al teatro di Pompeo per eresia se infatti tu fossi adesso a Roma da quasi tutti gli italiani sentiresti dire che è stato bruciato un luterano e così avresti una conferma non indifferente del tuo giudizio sulla nostra crudeltà quindi l'obiettivo principale di sciopius è quello di rassicurare il suo maestro e di conseguenza tutta la comunità luterana e protestante sul fatto che a Roma non venissero bruciati tutti i luterani ma soltanto gli eretici ti dico prosegue e ne sono testimone che certamente nessun luterano calvinista purché non sia relapso cioè non sia accaduto dopo esser stato giudicato e condannato purché non sia ricaduto nello stesso errore oppure abbia dato pubblicamente scandalo corre a Roma alcun pericolo e ancor meno rischia di essere punito con la morte questa è l'intenzione del nostro santissimo padre che a tutti i luterani sia permesso libero accesso a Roma e che ogni genere di benevolenza e cortesia sia rivolto loro da parte dei cardinali e dei prelati della nostra curia ora poi Scioppe naturalmente deve chiarire al suo maestro chi sia questo Giordano Bruno e passa quindi in rassegna non solo gli spiega chi sia questo Bruno ma soprattutto e questo per noi è estremamente importante nonostante un po' di errori e di inesattezze trascrive alcuni dei capi d'accusa di cui Giordano Bruno fu accusato al momento della come dire della lettura della sentenza di condanna la settimana precedente al ruogo capi d'accusa che noi possediamo soltanto in parte attraverso una minuta della sentenza di condanna tutto l'incartamento relativo al processo di Giordano Bruno si è perso noi non lo possediamo più naturalmente però abbiamo il sommario del processo di Giordano Bruno quindi come dire un apparato documentario molto più scarno che tuttavia ci aiuta nella ricostruzione del processo Scioppe scrive questo Bruno era di Nola nel regno di Napoli apparteneva all'ordine dominicano sarebbe troppo lungo enumerare tutte le invenzioni che sostenne nei libri a viva voce in breve qualsiasi cosa sia stata asserita dai filosofi pagani o dai nostri eretici dai più antichi e più recenti costui la sostenuta e prosegue poi con delle informazioni per noi importantissime perché è l'unica fonte che abbiamo dopo essere giunto nelle mani dell'inquisizione il 9 febbraio scorso nel palazzo del supremo inquisitore alla presenza degli illustrissimi cardinali del sant'uffizio dell'inquisizione dei teologi consiglieri e del governatore della città autorità secolare quel Bruno fu condotto nella sala dell'inquisizione sta facendo riferimento alla sentenza dove in ginocchio udì pronunciare la condanna contro di lui la sentenza fu pronunciata in questo modo si descrisse la sua vita gli studi e le convinzioni e con quanta cura l'inquisizione avesse tentato di convertirlo e di ammonirlo fraternamente e quanta ostinazione questo è un termine sul quale tornerò più avanti ed è in pietà e gli avesse ostentato e quindi lo degradarono come si dice lo scomunicarono del tutto e lo affidarono all'autorità secorale perché fosse punito chiedendo che ciò avvenisse nella maniera più clemente possibile e senza spargimento di sangue naturalmente questa era la formula che si utilizzava naturalmente nelle sentenze per far sì che poi il condannato passasse naturalmente dalle mani dell'inquisizione all'autorità secorare infatti Bruno fu tradotto nel carcere di Tordinona e poi come dire il governatore di Roma darà come dire il via per il ruogo dopo che furono compiute queste cose prosegue shop egli non rispose nient'altro se non con parole minacciose e qui in questo punto della lettera viene riportata la celebre frase che ho letto prima forse voi pronunciate questa sentenza contro di me con più timore di quanto io ne provi ne riceverla così condotta in carcere dalle guardie del governatore qui fu imprigionato per otto giorni qualora avesse voluto ritrattare i suoi errori ma in vano oggi perché shop è proprio testimone oculare del ruogo e scrive il 17 febbraio del 1600 questa epistola è datata il 17 febbraio oggi dunque è stato condotto a ruogo e dopo che gli fu mostrata l'immagine del salvatore crucifisso con volto torvo egli la rifiutò sdegnato e così bruciato miseramente morì per annunciare ne sono convinto negli altri mondi da lui immaginati in che modo gli uomini blasfemi ed empi sono soliti essere trattati dei romani questo è dunque il modo caro Rittershausen in cui siamo soliti comportarci contro gli uomini anzi contro i mostri di tal specie dunque la lettera è chiara Bruno viene descritto come un mostro come una personalità estremamente pericolosa e soprattutto il il principale come possiamo dire il principale errore di Bruno fu per shop quello di aver sdegnato l'immagine del salvatore crucifisso ora c'è un problema che riguarda non tanto il documento cioè questa epistola quanto i pregiudizi che accompagnarono il mittente il mittente di questa epistola cioè lo stesso Schoppius Caspar Schoppe è una delle personalità più ambigue del periodo e fu presente ebbe prima di tutto dei rapporti molto controversi con Tommaso Campanella in più fu presente ed ebbe rapporti con Paolo Sarpi proprio qualche giorno prima del mancato omicidio a Venezia quindi aveva questa come dire si occupava di questa attività politica di questa difesa strenua della controriforma e fu presente anche non solo al momento del rogo di Giordano Bruno ma anche alla lettura della sentenza di Giordano Bruno quindi questo documento ha sostanzialmente è stato considerato da alcuni autori già settecenteschi prima dei due nel 1885 fu considerato non autentico perché Schoppe godeva di pessima fama godeva di di una fama di uomo spregiudicato senza scrupoli ora in questa per questo motivo dopo l'affer Campo dei Fiori si cercò in ogni modo di ritrovare altri documenti che attestassero il rogo di Giordano Bruno per questo motivo grazie all'intervento di Francesco Crispi fu sequestrato l'archivio dell'arciconfraternita di San Giovanni decollato a Roma e in questo archivio già si sapeva perché alla fine degli anni 80 sempre del XIX secolo alcuni prelati ne avevano dato notizia si era convinti appunto di trovare dei documenti relativi a tutte le giustizie compiute a Roma nel XVI ma anche nel XVII secolo e così è stato una volta aperto appunto l'archivio di San Giovanni decollato poi confluito nell'archivio di Stato di Roma si è trovato questo documento qui io appunto ho trascritto in parte il contenuto in cui si dice l'intestazione dice appunto giustizia di un eretico impenitente bruciato vivo e in questo documento è la cronaca di quanto i confortatori dell'arciconfraternita di San Giovanni decollato compirono appunto con Giordano Bruno proprio nel momento precedente la morte i confortatori solitamente accompagnavano non soltanto il morituro come dire nella passeggiata tra il carcere e il luogo dove era stata allestita la pira ma si occupavano soprattutto di tentare di redimerlo fino all'ultimo in modo tale che il reo potesse comunicarsi anche in estremis Bruno naturalmente decise di non pentirsi in alcun modo e per questo non gli fu concessa l'impiccagione quindi noi sappiamo che Bruno fu arso da vivo invece spesso si dava appunto la possibilità dell'impiccagione prima della combustione in questo documento si legge a ore e due di notte fu intimato alla compagnia che la mattina si dovea far giustizia di un impenitente et però alle sei ore di notte radunatili confortatori e cappellano in Sartorsola et andati alle carcere di Torre di Nona entrati nella nostra cappella e fatte le solite orazioni ci fu consegnato l'infrascritto morte condannato cioè Giordano del Quondam Giovanni Bruni il padre di appunto Giordano Bruno frate apostata da nuola di regno eretico impenitente e qui si descrive l'operazione compiuta dai confortatori il quale esortato dai nostri fratelli con ogni carità e fatti chiamare due padri di San Domenico due di Gesù due del Gesù due della Chiesa Nuova e uno di San Girolamo quindi furono fatti arrivare due Domenicani due Gesuiti due Oreatoriani e un monaco di San Girolamo i quali con ogni affetto e con molta dottrina mostrandogli l'error suo finalmente stette sempre nella sua maledetta ostinazione e l'ostinazione di Giordano Bruno che colpisce e che è un termine che si ripete in tutti i documenti che adesso vedremo aggirandosi il cervello e l'intelletto con mille errori e vanità e tanto perseverò nella sua ostinazione che da Ministri di Giustizia fu condotto in Campo dei Fiori e qui vi spogliato nudo naturalmente l'atto del come dire della svestizione del condannato serviva proprio a degradarlo completamente e legato a un palo fu bruciato vivo accompagnato sempre dalla nostra compagnia cantando le letanie e li confortatori sino all'ultimo punto confortandolo a lasciare la sua ostinazione con la quale finalmente finì la sua misera e ti infelice vita così si conclude il documento questo documento è molto dettagliato tra l'altro poi è stato ben utilizzato anche nel film molto noto di Giordano Bruno appunto con Gian Maria Volontè di Montaldo in cui appunto viene descritto con particolare cioè ci si sofferma molto sul particolare dei confortatori che tentano in ogni modo di di redimere il condannato in vano naturalmente quindi finalmente alla fine del XIX secolo viene pubblicato questo documento e da qui in avanti fino in realtà al 2011 sono stati pubblicati e trovati altri documenti non solo relativi alla morte del Nolano ma soprattutto che attestano la verità del rogo cioè quanto è avvenuto il 17 febbraio del 1600 ora io sottolineo cioè vorrei sottolineare il fatto che il 1600 era anche un anno giubilare e il fatto che ci siano così pochi ma in realtà non sono pochi adesso lo vedremo documenti sulla morte di Giordano Bruno è stato chiaramente uno dei motivi per cui si è dubitato della sua morte questi che vedete qui purtroppo non ho una riproduzione sono due avvisi della città di Roma gli avvisi appunto erano fogli di notizie poi raccolti in alcuni manoscritti in particolare questi avvisi sono conservati in un manoscritto urbinate oggi presso la biblioteca apostolica vaticana in questi avvisi della città di Roma uno datato al 12 febbraio e l'altro datato il 19 febbraio del 1600 si parla naturalmente di del del rogo e della giustizia che di lì a poco sarà compiuta nel primo avviso si legge oggi credevamo vedere una solennissima giustizia quindi evidentemente ci si aspettava che Giordano Bruno fosse bruciato il 12 febbraio e non si sa perché si sia arrestata ed era di un domenichino da nuola eretico ostinatissimo che mercordì in casa del cardinal Madruzzi sentenziarono come autore di diversi enormi opinioni nelle quali restò ostinatissimo e ci sta tuttora non istante che ogni giorno ogni giorno vadano teologhi da lui questo frate dicono sia stato due anni in Ginevra poi passo a leggere nello studio di Tolosa e poi in Lione e di là in Inghilterra dove dicono non piacessero punto le sue opinioni e però se ne passò in Norimberga e di là venendosene in Italia fu acchiappato e dicono in Germania abbia più volte disputato col cardinal Bellarmigno e insomma il meschino si dio non l'aiuta vuol morire ostinato ed essere abbruggiato vivo gli avvisi solitamente erano scritti da menanti anonimi quindi noi non sappiamo che abbia scritto questo avviso di fatto questo documento non è molto attendibile perché ci sono moltissimi errori soprattutto nella descrizione dei viaggi e soprattutto Giordano Bruno non ha mai disputato in Germania col cardinal Bellarmigno ma soltanto a Roma ai nostri fini è importante perché naturalmente evidentemente si è sentita l'esigenza di registrare il fatto che qualche giorno prima il 12 febbraio quindi l'8 febbraio fu un eretico fu appunto ad un eretico fu letta la sentenza di condanna il sabato successivo il 19 febbraio viene invece diramato quest'altro avviso che recita in questo modo giovedì mattina in campo di fiore fu abbruggiato vivo quello scelerato frate domenichino da nola di che si scrisse con le passate e naturalmente le passate è riferimento al documento precedente eretico ostinatissimo ed avendo di suo capriccio formati diversi dogmi contro nostra fede ed in particolare contro la santissima vergine e santi volse ostinatamente morire in quelli lo scelerato e diceva che moriva martire et volentieri et che se ne sarebbe la sua anima scesa con quel fumo in paradiso ma ora egli se ne avvede se diceva la verità naturalmente l'anonimo menante come dire è chiaramente utilizza parole di ossequio nei confronti della dottrina cattolica contro Giordano Bruno in un altro avviso di minore importanza ma soprattutto non è un vero avviso ma è un ritorno cioè è una summa di diversi avvisi riassunti viene tramandato un particolare importante cioè si dice che Giordano Bruno indossasse al momento del rogo una che si dice appunto si legge che aveva la lingua in giova cioè Giordano Bruno con ogni probabilità ebbe una sorta di museruola questo contraddice un po' il fatto che appunto in questo avviso si dica che moriva martiret volentieri quindi sembra quasi che poi sia stato in grado di parlare non lo sappiamo non lo sapremo mai era comunque una pratica piuttosto comune quella di come dire far sì che il condannato mentre veniva trascinato al rogo non potesse proferire parole proprio per evitare che si rivolgesse naturalmente al popolo agli astanti più che altro che dovevano essere pochi visto che la pira fu come dire allestita alle sei della mattina quindi all'alba nel 2010 è stato rinvenuto un altro documento in realtà è uno stralcio di un avviso contenuto in una pistola inviata al duca Virginia Orsini e in questo documento si dice è un'epistola anonima purtroppo perché si è si è persa la parte finale con la firma con la data quindi non sappiamo molto si dice non abbiamo neanche la data sicuramente è precedente al rogo quindi probabilmente del 12 del 13 febbraio di quell'anno e sta per brugiarsi un relasso anche qui viene chiamato relapso ma non è corretto perché Giordano Bruno non era stato condannato prima del 1600 un relasso ostinato chiamato Tadeo Bruno Danuola è un errore il nome grandissimo letterato che per tre anni è stato al santo ufficio anche qui è inesatto parlare di tre anni il quale ultimamente dicesse al cardinale Santa Severina che egli di dottrina et massime di filosofia sapeva più di santo maso et che con maggiore allegrezza aveva intesa la sua sentenza di essere arso che essi con amaritudine e dispiacere non gli avevano letta per comparazione ma bene si turbò quando il cardinale gli disse sarete brugiato in luogo dove sarete visto e questa besta un filosofo ora il documento quindi non fa altro che come dire darci una prova ulteriore del fatto che effettivamente pronunciò quella frase perché si dice con maggiore allegrezza aveva intesa la sua sentenza di essere arso quindi non fu per niente turbato ma riporta un particolare non ovvio si dice ma bene si turbò quando il cardinale gli disse sarete brugiato in luogo dove sarete visto è un particolare che noi non avevamo quindi evidentemente ebbe un momento di defaianza quando gli fu detto che sarebbe stato arso in quest'unico documento Giordano Bruno viene chiamato filosofo in nessuno di questi diciamo dei documenti precedenti il nolano viene appellato in questo modo la cosa si spiega facilmente nel 1600 Bruno non era così conosciuto anzi era poco conosciuto o meglio era conosciuto soltanto da quelle persone con le quali egli era entrato in contatto durante i suoi viaggi anche il riperimento stesso dei suoi libri fu per gli inquisitori fu molto difficile e molto complesso perché i suoi libri non circolavano a Roma così tanto infine vorrei farvi vedere questo documento che è il più recente in ordine di tempo ad essere stato pubblicato questo documento è stato reso noto nel 2011 quando all'archivio di stato di Roma si stava organizzando e allestendo una mostra in onore di Caravaggio e è stato trovato appunto un registro in questo registro c'è appunto il documento che testimonia la consegna del Nolano al tribunale criminale del governatore di Roma ma questo documento che da un punto di vista contenutistico non ha come dire tutto questo valore perché vengono soltanto riportati tra l'altro prima di tutto come vedete è poco leggibile perché è molto rovinato dopo il restauro in realtà si è stato in grado appunto di leggerlo un po' meglio ma questo documento è certamente importantissimo perché nel margine interno riporta uno schizzo del condannato tra le fiamme questa è l'unica riproduzione coeva di Giordano Bruno è un disegno di mano notarile era comune che appunto i notai registrassero anche facendo uno schizzo appunto i condannati a morte questo disegno è particolare perché in realtà sembra quasi che Giordano Bruno indossi una tunica questo però sembrerebbe andare come dire in contrasto con quanto affermato nel documento dell'archivio di San Giovanni Recollato per Germano Maifrede invece quella linea orizzontale sotto il collo rappresenterebbe in realtà il borello cioè una sorta di laccio con il quale i condannati erano naturalmente legati al palo e dovevano rimanere dritti non c'è traccia della mordacchia della museruola e sembra intravedersi un po' la barba di Giordano Bruno noi abbiamo qualche descrizione del filosofo però è singolare appunto che questo documento sia stato trovato soltanto nel 2011 ora questa è stata una breve carrellata dei documenti oggi a nostra disposizione sulla morte del Nolano e benché questa lezione si intitoli appunto ombre sulla morte di Giordano Bruno in realtà non ci sono dubbi sul fatto che Bruno fu arso vivo il 17 febbraio del 1600 quello che colpisce come già ho detto prima è il fatto che i documenti siano scarni o meglio che non ci siano attestazioni soprattutto nei carteggi degli intellettuali con cui Bruno ebbe contatti relativi appunto alla misera fine che il filosofo appunto dovette subire a Roma quindi oggi non si parla più di congiura del silenzio intorno a Giordano Bruno sta di fatto però che la sua immagine la sua come dire figura sia stata strumentalizzata alla fine dell'ottocento appunto e lì sia nata naturalmente l'idea e la leggenda dell'eroe del martire del libero pensiero non ci sono più dubbi Giordano Bruno è stato arsovivo sul rogo e questo è la mole di documenti che possediamo in realtà è ridotta ed esigua solo se comparata come dire alla fortuna di cui ha goduto Bruno post affer Campo dei Fiori non certamente prima grazie abbiamo un pochino di tempo vediamo se c'è qualche domanda le volevo chiedere ma in Italia sicuramente non era conosciuto ma nei paesi protestanti Germania aveva un proselitismo per poi non subito non subito nel senso che noi riusciamo un po' a seguire la circolazione e la diffusione dei suoi libri quello che sappiamo è che non immediatamente come dire Bruno fu letto anche perché i suoi libri ovviamente questo ho messo io di dirlo dopo nella sentenza di condanna vengono inseriti nell'indice dei libri proibiti quindi ovviamente la circolazione poi aumenta come dire per converso nei paesi di area protestante quindi non subito però certamente la figura dell'eroe non nasce almeno nei due secoli successivi alla sua morte prego buonasera volevo capire perché conosco soltanto superficialmente perché ho visto il film quando poi è stato diciamo così riabilitato non tanto agli occhi della società normale ma ecclesiasticamente parlando come viene considerato oggi Giordano Bruno a Roma intendo Vaticano forse non sono la persona più adatta per risponderle all'epoca dell'affaire Campo dei Fiori naturalmente Leone XIII minacciava naturalmente di lasciare il Vaticano e di rifugiarsi in Austria perché naturalmente temeva che gli scontri potessero come dire sfociare in qualcosa di più complesso ad oggi naturalmente dopo la pubblicazione naturalmente da parte di Angelo Mercati del sommario del processo di Bruno non ci sono dubbi sulla morte ma quello che la Chiesa sostiene è il fatto che si sia naturalmente sul fatto che la Chiesa si sia concentrata maggiormente su questioni dottrinarie quindi non è stato bruciato lo scienziato Giordano Bruno non è stato bruciato perché ha parlato di infiniti mondi per i quali anche Schoppe lo prende un po' in giro ma per la sua ostinazione da un punto di vista dogmatico in realtà poi Giordano Bruno era stato scomunicato diciamo era diventato calvinista ma poi era stato scomunicato anche dei calvinisti cioè era una personalità che non riusciva naturalmente a trovare il proprio status da un punto di vista dogmatico grazie io confesso la mia totale ignoranza ma in che cosa si discostava lui dall'ortodossia per la quale è stato processato e condannato allora ci sono diverse come dire diversi piani in primis negava la transustanziazione e anche la verginità di Maria di cui si parla anche nei documenti e poi era diciamo per molti il suo pensiero è come dire rappresenta in nucia quello che poi sarà il pensiero scientifico di Galileo parla di mondi infiniti l'infinità dei mondi è come dire una delle dei punti più controversi della sua filosofia in più gli atteggiamenti come dire che questo frate continuava ad avere aveva una vita completamente dissoluta bestemmiava addirittura i suoi compagni di cella tra cui il frate Celestino da Verona che fu imprigionato con lui a Venezia probabilmente una spia al soldo del cardinale di Santa Severina lo denunciano più e più volte per le bestemmie che Bruno compiva in carcere perché si trovavano nella stessa cella è molto controverso l'atteggiamento che Bruno ha avuto durante gli otto anni del processo a partire da quello veneziano e poi in quello romano non è lineare la sua figura ad oggi Michele Ciliberto che è il più grande studioso della filosofia bruniana ma anche proprio della figura di Giordano Bruno sostiene che sia stato uno dei più grandi dissimulatori cioè Giordano Bruno ha scientemente scelto di portare così per le lunghe il suo processo perché era convinto di riuscire a convincere da un punto di vista dottrinario i suoi interlocutori in particolare Roberto Bellarmino che però arriva soltanto come dire in ultima battuta prego va bene grazie 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 mille prego grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti